Sono gravemente indiziati di essere gli autori di una rapina finita in tragedia con la morte del 74 anni Michele Carbonara. Nella notte tra il 14 e il 15 settembre scorso a Castelvolturno in località Baiaverde, due cittadini rumeni e una donna bulgara, destinatari del decreto di fermo eseguito questa mattina dai carabinieri di Mondragone ed emesso dalla procura di Santa Maria Capovetene. Mita, Mito Caru e Matei Petru, entrambi di 21 anni, sono accusati di rapina pluriaggravata e omicidio preterintenzionale, mentre la terza complice, Isabel Mortimei, è considerata dagli inquirenti solo complice della rapina. Badante di Carbonara fu proprio la donna a far entrare in casa i due complici. Altri dettagli dell'operazione sono stati forniti durante un incontro con la stampa dal procuratore aggiunto Luigi Gai. Sì, devo dire che sia i carabinieri che il mio ufficio hanno portato avanti in maniera tenace e immediata le indagini, muovendosi in un ambiente abbastanza fluido, nel senso che diverse persone erano frequentatrici di quella casa, alcune badanti. Però non ci si è fermati ai primi nominativi che scaturivano, ma con la possibilità di svolgere certamente su dei prelevi al Bancomat, fatto con la mattina stessa della rapina, è stato possibile risalire ai rapinatori. Ad eseguire il decreto di fermo, i carabinieri di Mondragone, diretti dal comandante Lorenzo Iacobbone. Un'indagine, in questo caso velocissima, che ha visto un ruolo determinante della stazione Carabinieri. Un presidio dell'arma che riesce ad avere informazioni, che appunto svolge non solo attività repressiva, ma l'importanza dell'attività preventiva. In questo caso ha giocato un ruolo determinante, perché la conoscenza dei luoghi, la conoscenza delle persone, la conoscenza di queste persone, che poi si sono rivelate gli autori di questo crimine efferato, ha portato in breve tempo a dare un nome al volto che avevamo dalle immagini di un circuito di biosorveglianza.